Qua per me è una seconda casa, visto il rapporto con la gente e tutto il tempo che ho trascorso qua. Qua per me è una seconda casa, visto il rapporto con la gente e tutto il tempo che ho trascorso qua. Qua per me è una seconda casa, visto il rapporto con la gente e tutto il tempo che ho trascorso qua. Qua per me è una seconda casa, visto il rapporto con la gente e tutto il tempo che ho trascorso qua. Sono riuscito ad entrare nella storia di questa società, di questa squadra. Spero di restare ancora e di dare il mio contributo a questa squadra e di entrare ancora di più nella storia di questa società. Ma sei un folle!